Riprendono quelli della sezione internazionale del Campania Teatro Festival con la sorprendente performer argentina Marina Otero. Ci racconta Cecilia Donaddio. Mettere in scena il dolore sovvertendo le regole del politically correct. Per una ballerina il corpo è lo strumento di espressione. Se ti abbandona ancora giovane, perdi l'identità. E se ti chiami Marina Otero, danzatrice, performer e regista argentina, da questo drammatico cambio di status reagisci attaccando, creando disturbo nel pubblico, scarnificando i corpi ben oltre la nudità, utilizzando le allusioni sessuali evidenti già dal titolo per stimolare negli spettatori attenzione e riflessione. Mi nome è Marina Otero, sono la direttora di questo lavoro. La sezione internazionale del Campania Teatro Festival ha presentato in anteprima italiana Facmi, terza parte della trilogia Remember to Live dell'Otero. Lo scorrere del tempo al centro del lavoro, i filmati d'epoca, le testimonianze del suo percorso, in una danza dura, violenta, che devasta le ossa e quasi paralizza. La voglia di non essere dimenticata trova però la sua scappatoia. I ballerini, maschi e nudi, diventano alter ego, il racconto di vita vissuta, sceneggiatura, e il narcisismo d'artista viene appagato con una struggente dolenza. M'inもの fatti, ma tutto l'abbia, Haut Guardi. Grazie a tutti.